le fascine a cosa servono le fascine servono per fare il grande falò che inizia dopo la benedizione della messa delle 19 qua si inizia il grande falò da questo qua inizia la tammurriato a tammurriato io mi ricordo con la surdo ci stanno altre paranze adesso con la surdo non c'è più l'anno scorso è morto lo stanno cinque paranze una migliore dell'altro a quindi saranno cinque le parano si balla si canta vino salsicce friarie caciocavallo in piccata pasta e fagioli con la cote vino a botaraccia è la chiesa qua tutto questo guardate dal nostro sant'andone il falò si fa qua perché sant'andone dalla chiesa lo guarda ok grazie